Io farò poche considerazioni perché credo che il mio compito sia dare l'A all'intervento di esperti, molto più esperti del sottoscritto e sarà un intervento che in qualche modo volutamente sarà provocatorio proprio per dare questo l'A. Sono note che abbiamo elaborato all'interno di ASSA aereo con i colleghi. Dunque, questo nostro settore, il trasporto aereo, presenta caratteristiche che lo rendono veramente unico per qualsiasi appassionato di economia industriale. Perché uno studioso può immaginare già a livello teorico quale può essere il risultato atteso da un'azienda che lavori in un settore caratterizzato da fornitori monopolistici, che però compete in un mercato ormai largamente liberalizzato e che vede i suoi clienti essere tra i consumatori più protetti del mondo. Questo è il trasporto aereo in Europa e, date le premesse, i risultati economici di questo settore non possono stupire. Nessuno intende negare l'importanza di un corretto approccio commerciale e nessuno tantomeno intende lamentarsi di norme che sono tese a proteggere il consumatore da comportamenti commercialmente scorretti. Tuttavia crediamo che sia innegabile che tutto lo sviluppo legislativo e giurisprudenziale degli ultimi anni ha inciso sul contesto nel quale i vettori operano, generando altresì occasioni per comportamenti opportunistici di taluni clienti e comunque occasioni per confronti non costruttivi tra passeggeri, tour operator e agenti di viaggio. L'ultima occasione, proprio quella dell'interruzione dei voli a caso della ormai famosa nube vulcanica, ha evidenziato come disinformazione e non totale rispondenza della norma alle fattispecie concrete che la stessa dovrebbe fronteggiare, hanno contemporaneamente determinato ingenti danni in capo alle compagnie aeree e, qualora ce ne fosse ancora bisogno, ulteriori incomprensioni ed occasioni di conflitto. Ci è quindi sembrato importante, dopo questo ultimo accadimento, organizzare questo convegno di oggi, poiché sentiamo davvero il bisogno che da questa occasione derivi una maggiore comprensione diffusa della norma e uno spunto che possa portare al miglioramento della stessa e della sua interpretazione in sede giurisprudenziale. Non credo che nessuno voglia contestare norme come quelle che sanzionano ritardi, cancellazioni o overbooking. Allo stesso modo nessuno nega che la perdita o il danneggiamento di un bagaglio rappresentino un danno per i passeggeri. Tutti sappiamo però, come in regolamento c'è il numero 261-2004, che è un po' il fulcro di questo convegno, tratti circostanze che frequentemente non sono imputabili ai vettori, così come tutti siamo ben conci che a perdere e danneggiare i bagagli non sono le compagniere. Tuttavia il conto di tutto questo finisce nel bilancio dei vettori e quindi è auspicabile individuare soluzioni per elevare la qualità dei servizi di tutta la filiera. Abbiamo quindi grosse attese per un contesto normativo che nella fase della sua maturazione non ponga a carico dei soli vettori le conseguenze di eventi di forza maggiore o comunque attribuibili a soggetti terzi e ci aspettiamo che gli enti di controllo, a livello sia nazionale che europeo, possano svolgere un ruolo sempre più chiaro per una corretta comprensione ed interpretazione della norma. Tornando alla nube, una cosa l'abbiamo capita. Il trasporto aereo, anche nel nostro Paese, ha un ruolo che va ben oltre quello del suo peso economico. È un elemento portante di tutto il sistema di mobilità nazionale che non sarà così facile a sostituire oggi con altre forme di trasporto. Peccato che nel momento in cui i vettori hanno combattuto per ridurre al minimo i disagi ai loro clienti, arrivando a pagare servizi di trasporto su gomma a favore dei passeggeri, ovvero camera d'albergo, a prezzi cinque volte il loro valore, si sono poi trovati da soli, sostenendone interamente il costo, senza alcun segnale che faccia loro sperare in una condivisione dell'alto prezzo pagato. Grazie. Allora passo la parola a Gianni Dragoni, che inizia la sua opera di moderatore.